Ciao amici dalle spettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un ragazzo che è in cerca della sua anima gemella Ciao, come ti chiami? Salvatore Tranghida Salvatore, Salvatore quanti anni hai? 20 quasi 20, di dove sei? Di Paceco Di Paceco, vicino Trapani Ascolta, e tu naturalmente sei in cerca della ragazza? Sì Come dovrebbe essere questo tipo di ragazza che vai cercando? Come la vorresti praticamente? Capelle nere, altre 1,70 m Quindi come altezza 1,70? Come capelli, capelli neri, occhi, hai preferenza? Neri pure lo stesso Occhi neri, non ha importanza, dovrebbe lavorare questa ragazza o non ha importanza? Vabbè pure va a scuola, non ci fa niente Anche se è studente la stessa cosa? Sì Parliamo di età invece, che età dovrebbe avere? 17-18 anni Massimo? Anche 20 anni è lo stesso? Sì, sì, va bene Va bene Salvatore, hai detto che ti chiami Salvatore? Sì, sì Ascoltami, come passi il tempo nella giornata? Quali sono i tuoi hobby? Lavoro, moratore Poi vado a casa Lavori tu sempre qui a Paceco stesso, vero? Sì, sì, trapani Va bene, mentre ascolti musica? Sì, sì La musica che ti piace che genere? La discoteca Ti piace la musica a discoteca? Sì, sì In discoteca ci vai? Sì, certo Spesso? Sì, quando ci vuole Quanto tempo è che sei senza ragazza? Circa un mesetto Un mese, quindi a poco E mentre con l'ultima ragazza quanto tempo sei stato? Tre mesi Tre mesi Cioè finora praticamente hai avuto storie passeggeri Sì, sì Mentre tu sei in cerca giustamente di una storia seria Sì, certo In modo praticamente di farti fidanzato magari ufficiale Sì E crearti poi successivamente una famiglia, giusto? Sì, sì Va bene Ok, amiche delle spettatrici Avete conosciuto Salvatore 20 anni di Paceco Che è in cerca della sua anima gemella Cerca una ragazza per potersi sistemare Per cui per quelle di voi che siano interessate a contattare a Salvatore Possono farlo direttamente al suo numero telefonico Che state vedendo in sovraimpressione Salvatore è qui che aspetta E si vuole sistemare Per cui sbrigatevi, telefonate È giusto? Sì Vogliamo dire qualche altra cosa? Non so No Basta così? Ok Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta E vi saluta anche Salvatore Ciao amiche Salvatore Salvatore Oh yeah Grazie a tutti